E' stato così sentire dall'argento del bambiniere! Oh, grazie! Siete dei migliori? Ti piace? Secondo me sono dei migliori E stavolta non potrei fare nulla Noi siamo te E tu sei da solo, tu mi la rendi Ah! Sì! Sicuro che io sia da solo? E ti fai una forza! Dai natoci, non ti rendi niente Ti preoccupi un padre Io la faccio andare in casa E tu la ce ne devi andare in giro E ce ne devi andare in giro Un due Un due, esatto ci Ci stai Va bene, ma i voi devono prendere le pistole in mente si dispazio Giure il pistole Ma qui? Giure il pistole! Ancora un piccolo sforzo Tra poco vi ne hai lasciato un pistole Ma tu? Ti devi lasciare manciato Ossiziali qui Io non c'ero la prima Questa è in casa Ossiziali qui Io non c'ero la prima Ma cosa mettiamo? Ossiziali qui Ora vengo qui No! Oh! Piepetta! Poi Che sei il piede? Oh! Non t'essereo Quando lo carioni Lo carano? No! scusate, non andava bene lei mi deve mettere il carino cosa dico la fattuta carino si mette il carino si toglie dalla cena va bene? ci provo ma no, che ci provo? si tenete in cucina attira la storia di cucina la possiamo fare? la possiamo fare? la dove? la giusta? io mi raccomando attenzione ora che vuoi? un access non è buono arriva il carino quando è il carino quando è il carino è io quando è il carino è il carino non è buono no, che? non andate mamma mia mamma mia tanto male io mi sono fatto male io mi sono fatto male io mi sono fatto male io mi sono scoccato ti levi in mezzo se ne vada lo potrebbe fare anche un bambino bravo, mi serve un bambino chi lo fa? ciao, come ti chiamo? Matteo un applauso allora Matteo, quant'anni hai? 11 anni, grazie bravo già parla di mezzo alle tettine complimenti quando è un uomo vestito di nero quando è un uomo vestito di nero quando il signore è con vestito di nero vi darà la parola bravo tu che fai? ti metterai in mezzo lancerai il piano e tornerai indietro va bene? perfetto vai c'è più come è che c'è il cuore? resti a guardare quindi poi si impara qualcosa le ho dica a lei le ho dica stia a guardare guarda eh va bene la possiamo rifare? la rubiamo il cuore io mi sento che palla è che è con mezzo io li ho dica se va a tornare a casa quando questo fanno essere la tua la tua certo che li griva troppo eh l'uomo bene l'uomo tu è che l'uomo ora le due 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10